Musica Quando c'è gente di campo che conosce il calcio secondo me Uff! Mi sto cagando addosso, sì Sì ragazzi, mi sto cagando addosso L'ultima Milan Sassuolo La live reaction è nel canale Non l'ho presa benissimo ragazzi Ciala, ciala! Ma che gol! Ma che gol del turco! Ma che gol del turco! Tolian sinistro, gol del Sassuolo Gol del Sassuolo, vai Aspadoni, vai Bene, 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 così Bene, così, bene, così Attenzione Oh, oh, gol del Sassuolo Gol del Sassuolo Aspadoni Ragazzi, il campionato è finito qui E speriamo di non incappare in un altro passo falso Perché c'è chi si sta avvicinando E questa è una partita che sulla carta dobbiamo vincere L'ultima sconfitta in casa in campionato Risale proprio a Milan Sassuolo Era lo scorso aprile Abbiamo ovviamente 54.000 infortunati Rientra però Magic Mike Torna al top anche Leao Che ha saltato la gara di Madrid Quindi dovrebbe essere i quattro davanti Selemekers, Diaz, Leao e Zlatan Raga, Berardi quando gioca contro la Juventus È sempre rotto, squalificato C'è la cagarella di qui e di là Quando gioca contro di noi Sempre presente Sempre gol C'è una cosa incredibile Comunque Caressa aveva ragione sul lino della Serie A ragazzi C'è veramente brutto Mamma mia Magna, Florenzi, Chier, Romagnoli, Ternandes, Benna Sere Baccaio, Co, centrocampisti Selemekers, Diaz, Leao Come già anticipato dietro a Zlatan Ibrahimovic Ci siamo ragazzi Dai Eccolo il fischio L'avete sentito anche voi Buono il pressing del Milan eh Per ora buono Chier per Zlatan Buono c'è Ternandes No Gli ha fatto una scivolata al difensore Molto molto buona E la palla beh Gli rimbalzano addosso È finita fuori Leao ma perché cerchi Sempre la giocata C'è tira a doppia Non dà via la palla Cazzo Benna Sere Verso Teo C'è Berardi a contrastarlo Ma la verso Ibra Non la prende Era fuori gioco di Ternandes Un'unghia di dito Ibra non la prende Vabbè si Ternandes E' un fuori gioco di tipo 10 metri Allora per adesso Il Sassuolo non ha superato la metà campo Ripeto Per adesso Poi la partita dura 90 minuti Palla dentro da Spadori Grande Chier C'era Scamaca Pronto a fare il gol della merda Bravi mi state piacendo Bravi 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 Dai 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 Vabbè prima che bene Se era rifaccio il gol Che ha fatto a Bologna Che ci vorrà tipo una vita e mezzo Bravo Baca Non fare puttanate Tira Era a un secondo dalla puttanata Ha fatto un tiro Che ha fatto la barba al palo Raga No fuori di nulla ragazzi Vabbè consigli c'era Probabilmente avrebbe parata Però tiro insidiosissimo di Baca Leao come ti fa togliere palla Però La terza palla che perde in 5 minuti ragazzi Bravo Ben Nasser su frattesi ragazzi Che anticipo Va dentro per Ibra 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 Fuori gioco Ibra Consigli cosa ha preso Ma secondo me era fuori gioco ragazzi Eh appunto Cioè l'ho visto da qua Sì 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 Vabbè Fuori giochissimo Fuori giochissimo Bravo Leao Uh che dribbling E si allunga sempre la palla ragazzi Oh Quando salti 2-3 uomini Scaricala la palla Leao Per favore Leao bene Se le makers non far puttanate Leao Leao Bene Teo 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 Perché Lo ha messo in mezzo Ed era anche fuori gioco Tira Tira Non possiamo però sbagliare queste azioni qua ragazzi Cioè eravamo in 5 contro 4 Si sovrappone Teo In fuori gioco Di un metro e mezzo Cioè Ha avuto Una cosa come 5 secondi Per dargliela Leao Non gliela data E anche qua Leao però ragazzi Ci manda a puttane Una grande azione Poi vabbè Che Teo Ha sbagliato Dove a tirare Non ha tirato Però Leao porta Troppo palla No 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 Frattesi No Deviazione Teo Teo Che fai Maignan Dunque Sassuolo che sta crescendo piano piano Cioè primi 3 minuti non ci ha capito un cazzo Infatti avessimo colpito Sarebbe stata diversa Un bacaiu con No Non si è capito Conte Hernandez Scamacca Fuori 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 Ma cos'è sta sbrodolata difensiva Ragazzi Oh Ibra Tiaz Non ci arriva Non ci arriva Bella per Ibra Regolare Lascia Leao Che ovviamente Non la scaricherà Fuori gioco Ragazzi Quattro fuori giochi D'Ibra In un quarto d'ora Cioè ma non è possibile Ragazzi Ma se è il sale Mekers No 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 Contropiede Il cazzo è fatto Maxim Lopez Kiermet fuori In angolo Ragazzi Sale Mekers Sale Mekers Ragazzi Quando è che lo vendete Quell'uomo lì Perché ce l'hai con sale Mekers È l'unico Che non ha fatto Un cazzo In 25 minuti Di partita Ferrari al cross C'è Scamacca Fuori Io sono sicuro Che questi qua ragazzi Arriva a questione buona Che hanno Sti qua colpiscono Ma io ne sono sicuro Veramente Ma Cioè ci metto la firma E Si blocca Da zone ragazzi Brahim Ternand E so qua Il cross Dentro Alessio Il capitano Alessio Il capitano Alessio Il capitano 1-0 Vamos Non ho visto Un cazzo Perché è tipo Sgranatissimo Però ha fatto Goll Alessio Il capitano Dai Era l'ora di portare Nel vantaggio Tocco corto Ternand Cross A giro Salta Sul primo palo Posizione Degualissima Perché parte Da dietro Lucia Scamacca Raga ma si può Andare a vedere La partita Con un audio Così Che salta Ma si può No Scamacca In fase di gestione Ragazzi In fase di gestione Cioè Non me ne ho neanche accorto Scamacca Vabbè Molla a un destro Qua Magnana Guarda Ma quanto siamo Coglioni Ragazzi Le pale Perse al centrocampo Ragazzi divertente Perché quando perdono Palla loro al centrocampo Noi Stop di merda Sgrana Ai server Del cazzo Siamo in panna Adesso ragazzi Siamo in panna Siamo totalmente In balia del sassuolo 20 minuti Abbiamo fatto quello Che c'è parso Abbiamo trovato il gol Presa l'incuata Del 1-1 Inesistenti E risalta L'audio Ragazzi Ma lo chiudete Sto da zone Per favore Gli togliete i diritti A questa cagata qua Per favore Gli togliete i diritti Io non ne posso più No vabbè Basta Vi prego Basta Pietà Pietà Dazon Pietà 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 Vai dentro del sassuolo Chiari in angolo Ma io non vedo un cazzo Io non posso vedere una sega Adesso sicuramente Farà gol il sassuolo Ma io non lo posso vedere Perché non c'ho connessione Non mi si connette Neanche all'hotspot Io non ho parole Ragazzi Neanche con l'hotspot Va questa merda qua Questo è il gol del sassuolo Sono sicuro È il gol del sassuolo E io non lo vedo 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 Gol del sassuolo intanto Calcio d'angolo Il problema è che vi sto pure pagando Per sto servizio Vi sto pagando 2 a 1 sassuolo Abbiamo preso gol Chi ha visto? Ferrari Cerca anche il dribbling Ferrari No no Raspadori Magnan Tra la qualità I server E il Milan Non so cosa faccia più schifo Ragazzi Oh tutte le volte Si va a vantaggio Col sassuolo Ci rimontano Come l'anno scorso È incredibile No Benna sepe Romagnoli Mamma mia Ragazzi Ma cosa mi tocca vedere Ragazzi E si è bloccato Bravo Ternandes Senza fallo Non far puttanate Palla dentro La fa Se andassimo a riposo Sul 2 a 2 Ci si giocherebbe tutto nel secondo tempo Se ci si va Sull'1 a 2 Ragazzi Fatevi il segno della croce Perché questa partita La perdiamo Sicuro No Perché sti lanci lunghi Del cazzo Ibra Teo Teo No 3 tocchi Sti qua Ma non importa 3 Noi 50 Occasioni Tutte in fuorigioco Bakaio Cooper Diaz Diaz Buono Diaz C'ha Ibra nel mezzo Lo serve Diaz Non ci arriva nessuno Selemakers Buono Va dentro Verso Ibra Non l'aggancia Di 10 centimetri Naga Fine primo tempo Che merda Che merda Che merda Secondo tempo C'è un calcio D'angolo Per noi Ha messo Messias Ha tolto Selemakers Vero E' entrato anche Che si Ha tolto Bakaio Preventivabile Per ora Gli unici che salvo Sono Kier E Benazer Che sono quelli Un po' più costanti Ah no Selemakers Non è uscito Che è uscito Prime Diaz Per far entrare Messias Selemakers Guardalo Guardalo Leao Non lo guarda Selemakers Quel bidonaccio Allora Pioli Piuttosto che togliere Quel bidone Di Selemakers Li ha reinventati tutti Leao Dietro Ibra Selemakers A sinistra Messias A destra Ma togli Selemakers Smetti Messias Cazzo Ovvio che se Milan Sta sotto 2-1 Col sassuolo E rimonta Tra l'altro Ce la siamo meritata tutta Per carità E' ovvio che la responsabilità È distribuita Per 11 uomini In campo Però Selemakers Ma si 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 Sei un coglione Sei un coglione te Sei un coglione te Comunque ragazzi Se fa un po' di pressing Glizza solo la palla La perde Leao 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 Ora io capisco Che un gol come questo Si possa sbagliare Ma tirarla così Larga Cioè ti ci devi mettere Di impegno Bimbo mio E Ibra Selemakers Non fare puttanate La fa La fa La fa Di controbalzo Da 25 metri No 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 Io non posso più di sto qua Cioè il passassuolo Sta facendo palleggio Nella nostra metà campo Tranquillo La palla viene messa fuori E la riprende la difenza Del sassuolo Selemakers Non agganza la palla Ma io Mi sanguiano gli occhi A vedere un giocatore così Raga Mi sanguiano gli occhi Lorenzi dentro Verso Messias Ha spinto in area No non c'è nulla Palla dentro Verso Ibra Sponda Non c'è nessuno Tonali Sinistro In curva In curva In curva Ragazzi Basta Basta Di giocare di merda Cross Non c'è nessuno Che si Bello per Leao Ibra Non tirare Lo fa Fuori Basta Gli ste palle fuori Raga Basta 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 Ste palle fuori 24 tiri fuori Con la Fiorentina Cogliete alla porta Ragazzi Cosa aveva detto Al primo tempo Che sia Sti lanci Sti lanci Sti lanci E' la quindicesima volta C'è la quindicesima volta Poi Duello con Romagnoli E raga Romagnoli Mi assia Mi assia Mi asia il cross Dentro Chi Palla Palla dove Palla dove Palla dove Fuori Poi c'era io sul secondo palo Poteva fare il velo Tava quel che volevo Entra Pellegri per Florenzi Vai Jeff Capito? Entra Pellegri per Florenzi Altra palla persa Ma che sì raga Tonali fallo E ha munito per aver fatto cosa Ma non era neanche fallo sto qui Ma non era neanche fallo raga Fallo di chi era un altro fallo raga Un altro giallo che io buono lo so Non ha fatto un cazzo il Sassone nel secondo tempo Ha fatto un'azione ed è stato letale È quello che dobbiamo essere noi Ibra Bucamessias Consigli Raga abbiamo colto la porta Abbiamo colto la porta Incredibile 73 minuti Due tiri in porta Uno è il gol Uno è questo Salta Ibra Palla fuori Yes Berardi per Defle Ovviamente non lo attacca Romagna ne lo affonda E qua Cartellino rosso per Romagnoli Lo affonda da ultimo uomo Ma rimaniamo anche in 10 Palla in profondità Non lo anticipa Non lo affronta Lo atterra da ultimo uomo Sto qua va in porta diretto Rosso diretto Cioè rosso netto raga Rosso netto Meno male tornato Muori mercoledì Caluno per sale Mekers all'ottantesimo Ci sono voluti 80 minuti A Pioli per capire che sale Mekers non andava fatto scendere in campo Bravo mister Bravo mister che continua a metterlo Bravo Ciao bello Pellegri E se la Luga E va anche a far fallo Pellegri buono 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 E ma se poi non cance non ci vai Se la anticipi Salta i difensori Ti fermi Senti Mamma mia raga Mamma mia raga Ma che cosa mi tocca vedere Di domenica pomeriggio Belli gli acquisti di Maldini Belli gli acquisti di Maldini Se le Mekers Pellegri Raga io già al trentesimo del primo tempo Sarevo già che non avremmo vinta questa partita Leao dentro Ibra Palla lì Pellegri Angolo Era il fuorigioco Che bello Leao Leao Scarica la verso Che si Transennato Vabbè ragazzi dai Finita qui Basta mi sono rotto i coglioni Lasciate like al video Iscrivetevi al canale Ci si vedrà per la bellissima Genoa Mila